Salve, siamo qui con il nostro direttore Mr. Matteo Buonavolontà, volevamo farle un po' di domande. Siamo quasi alla chiusura del secondo turno del nono stage a Castel di Sangro, quali sono le sue considerazioni? Sono state due settimane davvero belle, perché ci siamo divertiti, i ragazzi hanno imparato tantissime cose nuove, è stato uno stage di addestramento. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, in primis formare due gruppi di lavoro coesi tra loro, dove valori come l'amicizia, la solidarietà e l'aiuto reciproco sono emersi. Naturalmente la componente tecnica, fisica, coordinativa è stata molto alta e le aspettative sono state davvero mantenute. Al termine di ogni settimana, ora siamo all'ultimo giorno, abbiamo constatato che i ragazzi sono stati bene, sono divertiti, ma anche noi dello staff, uno staff davvero altamente qualificato, di veri professionisti, solo grazie a loro e grazie alle strutture che ci hanno ospitato, la riuscita dello stage è stata davvero ottimale. Poi con i numeri così alti abbiamo raggiunto quota 40 ragazzi per ogni settimana, ma siamo riusciti a toccare tutti gli argomenti in ogni singola seduta, quindi diciamo come direttore sono davvero soddisfatto, è stato davvero due turni di livello assoluto, di lavoro e di tanto divertimento anche normalmente. Grazie mille direttore.